Pensare ad una proposta turistica composta da benessere e sana alimentazione biologica, è questo l'obiettivo di EpiBio 2018. La finalità del progetto presentato al bagnovela di Punta Marina è infatti quella di valorezzare la Romagna attraverso un'integrazione tra mare, città e campagna, coniugando ospitalità di qualità, cura del buon vivere e rispetto dell'ambiente, favorendo la filiera del territorio. È un messaggio straordinario perché avere i due assessori, agricoltura e turismo, che lavorano insieme, vuol dire vendere veramente il territorio. Oggi non si vende più una stanza d'albergo o un piatto di pasta, si vende un sistema territoriale. Anzi, per meglio dire, le sfide che abbiamo davanti non sono più sfide fra prodotti o fra aziende, ma fra sistemi. Oggi qui si è dimostrato che la Romagna è veramente un grande progetto di sistema d'area. Turismo, agricoltura, commercio stanno insieme per vendere una filiera nuova che è il territorio. Si può stilare un bilancio sull'andamento del biologico in Italia e in particolare in Emilia-Romagna? È positivo o negativo? È molto positivo, è molto positivo perché dal 2008, quindi da dieci anni, cresce a due cifre il mercato, il consumo interno e ancora di più l'esportazione di prodotti bio, ma soprattutto negli ultimi due anni sta cominciando a crescere anche le superfici e il numero di operatori. Siamo già a livello nazionale a 2 milioni di ettari, che sono praticamente il 15% della superficie agricola italiana coltivata in bio, praticamente un ettaro coltivato su 6 è già biologico. In Emilia-Romagna, anzi l'Emilia-Romagna è per certi versi la punta ai diamanti di questo fenomeno di crescita perché nell'ultimi due anni appunto praticamente la superficie è raddoppiata, siamo arrivati a oltre 150 mila ettari di coltivazione biologica e soprattutto è una conversione, una transizione al biologico che sta interessando non solo i territori di collina e montagna, quelli un po' più marginali, ma soprattutto le grandi estensioni della pianura padana dove c'è l'agricoltura più diciamo professionale, più di grandi dimensioni. In che modo il biologico si può inserire nel settore turistico? Beh, è fondamentale perché il settore turistico, in particolare nel nostro paese, in particolare in Romagna, in questi territori vive molto anche della qualità del cibo, della qualità dell'ambiente, di quello che c'è dietro le spiagge e il biologico da questo punto di vista è soprattutto tutela dell'ambiente, tutela della biodiversità, diversificazione delle culture, è un ambiente assolutamente sano, peraltro è un'agricoltura giovane, un'agricoltura dove c'è molto agriturismo, molta anche attività multifunzionale, molte donne e quindi è quell'ambiente ideale dove anche chi oltre ad andare in spiaggia e a godersi il mare vuole godersi il territorio, consente di avere un territorio in linea con l'aspettativa che poi si ha dell'Italia, quindi buon vivere, una qualità anche ambientale, paesaggistica eccezionale. In che modo il concetto del buon vivere che è alla base di questo progetto si sposa per un'idea di nuovo turismo in Romagna ed in Emilia Romagna? Beh, si sposa direi in maniera perfetta perché il buon vivere è comunque un concetto che esprime, che comunica un messaggio molto chiaro, molto forte, molto semplice, anche molto diretto che è quello appunto di un luogo, anzi di più luoghi, di territori e di destinazioni dove la qualità della vita, che è data naturalmente dalle popolazioni locali, è data dai servizi, della qualità dei servizi, è data dalla straordinaria offerta inogastronomica, è data dai paesaggi, è data dai borghi, è data dall'ospitalità, dalla cultura dell'accoglienza di questo territorio, si coniuga direi perfettamente con il nostro territorio che sta cercando in questi anni complicati e difficili di mantenere delle posizioni di vertice nel panorama turistico e credo che i risultati che abbiamo raggiunto in questi anni, grazie anche all'innovazione nella promozione turistica, ci consentono appunto di mantenere una leadership. Arrivati a metà del 2018 e alla vigilia della stagione estiva, quali sono i risultati e i bilanci riguardo al turismo nella nostra regione? Dunque, diciamo che nel 2017 abbiamo raggiunto livelli mai raggiunti prima d'ora, se non diciamo nei lontani anni 80, 57 milioni di presenze sono un dato davvero straordinario per la nostra regione, quindi non sarà semplicissimo fare meglio, però già i primi 4 mesi, perché abbiamo i dati fino ad aprile, ci dicono che siamo ancora in crescita del 5,3%, ora naturalmente vediamo i mesi estivi che sono quelli che naturalmente nella bilancia complessiva incidono di più, però insomma sono fiduciosi, siamo fiduciosi che ci sarà anche nel 2018 una crescita direi uniforme su tutto il territorio regionale, da Rimini a Piacenza, anzi da Cattolica fino al Piacentino e dal mare fino all'Appennino. Qual è il filo comune che lega agricoltura e campagna con mare, stabilimenti balneari e la nostra riviera? Soprattutto l'ortofrutta, spesso se parliamo in Romagna, però in realtà c'è l'insieme dei prodotti dei nostri territori, dell'Emilia Romagna, che ha il record europeo dei prodotti di qualità, dopo l'IGP, che sta investendo molto nel bio e che quindi si sta proponendo come una meta che è anche enogastronomica, oltre che di mare, di turismo, di svago. Siamo arrivati ad essere nelle top 10 segnalate dalla Lonely Planet quest'anno come destinazione del 2018 e l'Emilia Romagna c'è proprio per questa ragione, perché unisce la cultura, i luoghi di svago e di divertimento a questa grande tradizione enogastronomica che c'è perché è dietro una grande agricoltura, dietro una tradizione e quindi unire queste cose è importante. Si è cominciato distribuendo ortofrutto in spiaggia, noi non dobbiamo mai dimenticare che questa è una regione che fa l'11% dell'ortofrutta italiana, per cui qui c'è un pezzo veramente importante la produzione, un settore che peraltro occupa molte persone e che quindi è importante anche per il benessere in generale dei cittadini emiliano-ormagnoli, ma soprattutto qui c'è un'idea, il fatto che si punta verso un'agricoltura che vuole distinguersi per qualità, vuole distinguersi per sostenibilità, raddoppiando il biologico, facendo tutta una serie di operazioni per ridurre la chimica, andando incontro a quello che i cittadini ci chiedono e quindi così noi comunichiamo il nostro modo di vivere, la riviera ha sempre fatto un po' questo e continuiamo a farlo naturalmente adeguando i messaggi e facendo in modo di cercare di essere all'avanguardia anche nella sostenibilità. In questo senso il biologico che ruolo gioca per unire il territorio e quindi le varie parti del territorio? Ma gioca un ruolo importante, noi abbiamo bisogno di aumentare la quota di biologico nella nostra agricoltura, non tanto perché il mercato chiede biologico che già di per sé potrebbe essere una buona motivazione, ma soprattutto perché un'agricoltura biologica ci consente di ottenere dei grossi risultati in termini per esempio di salute del suolo, di maggiore sostanza organica nei suoli e quindi di prodotti più buoni che vengono proposti nella nostra agricoltura, ci permette di essere più sostenibili perché è un'agricoltura che permette un maggior sequestro di carbonio nei suoli, che permette di ottenere dei prodotti che sono liberi dalla chimica che di conseguenza danno meno conseguenze sulla salute umana e di avere complessivamente un'agricoltura più sostenibile. C'è una richiesta di biologico che è molto forte in Italia, in Europa e nel mondo, su alcuni prodotti poi è fortissimo, citavo prima il caso della Cina che richiede di fatto solo vino biologico ormai dai produttori europei e di conseguenza c'è una consapevolezza dei consumatori che è cresciuta che comporta che anche la produzione si adegui, l'Emilia Romagna sta rispondendo benissimo, raddoppiare gli ettari a bio in una regione che è una regione fortemente competitiva e con un'agricoltura molto forte non è banale, vuol dire che dietro gli operatori rispondono, abbiamo quasi 6 mila aziende che lavorano in biologico ormai ed è un fatto che forse anni fa era impensabile. In che modo si collega l'entroterra con la riviera romagnola? Noi partecipiamo ormai da anni a questo evento di APBio che organizza Fausto Fagioli in modo magistrale, il collegamento è lo storico, solito e storico che lega l'entroterra alla riviera in un rapporto non competitivo, in un rapporto assolutamente amicale e permette durante la stagione estiva ai turisti di conoscere anche le prospettive che ci possono nascere sull'entroterra e poi dopo nella stagione invece più autunnale, invernale la possibilità di poter conoscere dal vivo e visitare i luoghi dell'entroterra. È un progetto come dicevo che portiamo avanti da anni e mi pare che abbia sempre riscosso un buon successo. Appunto per quanto riguarda l'iniziativa APBio, quali sono le finalità di questo progetto? APBio permette di far conoscere i prodotti, in modo particolare i prodotti alimentari del nostro territorio, penso alle ciliegie, penso alle albicocche, penso alle pesche, farli conoscere sulla riviera Adriatica ricordando che poi invece questi prodotti vengono dall'entroterra e portando poi i turisti a vederli dal vivo, questi prodotti ovviamente in una diversa stagione. Funziona molto bene anche per altri prodotti, per esempio quelli che sono legati al mondo dei formaggi, penso in modo particolare al ravigiolo che è un prodotto che deve essere consumato, conosciuto nel territorio e consumato nel territorio.